Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo all'incontro che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. Si è parlato della costruzione in una delle aree di smesse della raffineria Eni di Gela di un impianto GNL per la liquefazione del metano. Eni si è impegnata a realizzare lo studio di fattibilità del progetto entro sei mesi, cioè dire marzo dell'anno prossimo. Si è parlato della costruzione in una delle aree di smesse della raffineria Eni di Gela di un impianto GNL per la liquefazione del metano durante l'incontro che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Presenti la sindaco Domenico Messinese e il suo vice Simone Siciliano. Eni si è impegnata a realizzare lo studio di fattibilità del progetto entro sei mesi, cioè dire marzo dell'anno prossimo. È subito emersa la volontà di Eni di voler anticipare i tempi indicati nella lettera d'intenti per addivenire a quello che è uno scenario di mercato consolidabile con l'aiuto sicuramente delle istituzioni e soprattutto per quello che riguarda gli operatori pubblici, quindi trasporti pubblici o gli operatori della pesca nel processo di riconversione delle motorizzazioni su nuove motorizzazioni meno impattanti alimentate ad esempio proprio a gas liquefatto. Si conta quindi dunque di arrivare a dicembre con un formato chiaro di quelle che possono essere le prospettive di mercato e le soluzioni tecniche su cui Eni già sta lavorando in maniera molto intensa proprio per cercare di dare un'altra valvola di sfogo a quelle che sono le iniziative per rilanciare l'economia del territorio. Ma quali ricadute potrebbe avere in termini occupazionari la realizzazione di un impianto di gas naturale liquefatto? Il territorio ha una politica industriale vocata sui combustibili, oggi si sta puntando molto sui combustibili alternativi. Eni affronta questa sfida con molta intensità, il territorio ha espresso di voler continuare una politica industriale vocata proprio alla sostenibilità e quindi rilanciamo quello che è il ruolo dell'ex raffineria in un contesto di piattaforma logistica di carburanti alternativi con affaccio sul Mediterraneo. Lei più volte ha sottolineato durante l'intervista portualità, Mediterraneo, Porto, ma se lavori a Porto non comincia o non è quasi un paradosso? È un paradosso tipico della lentezza delle istituzioni. In questo momento è quello che stiamo cercando di fare portando al Ministero i tavoli di confronto con la Regione e gli operatori del settore è quello di accelerare, velocizzare i processi che possono portare alla nascita di nuove attività. Il paradosso è proprio che il Porto Piccolo, che è un porto di supporto alle attività del sistema logistico del territorio stenda per delle lungaggini burocratiche tipiche di istituzioni macchinose ed elefantiache. Trema la terra in provincia di Caltanessetta, una live scossa di terremoto di magnitudo 2.2 e della scala Richter è stata registrata intorno alle 2.50 della scorsa notte nella zona compresa tra i comuni di Gela, Riesi e Licata ad una profondità di 32 chilometri. Nessun danno a cose o persone, soltanto qualcuno, soprattutto nella zona di Butera e nella periferia nord di Gela ha avvertito un lieve tremore. Ennesimo attentato incendiario a Gela, ignoti malviventi, la scorsa notte hanno incendiato una Mercedes che era parcheggiata nel cuore del centro storico in via Rossini. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, sull'episodio indaga la polizia. Anche la caserma dei carabinieri Guccione di Viale Regina Margherita accoglie il progetto dell'Unione Italiana del Soroptimis una stanza tutta per sé, un luogo confortevole dove accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza che si recano in caserma per denunciare e che nei mesi scorsi è stato creato anche a Gela e Miscemi. Un progetto che si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale, sono ben 53 infatti le stanze realizzate in tutta Italia e 7 presenti in Sicilia. Una stanza tutta per sé viene inaugurata anche a Caltanissetta giovedì 17 novembre. Sono particolarmente orgogliosa come prefetto di Caltanissetta perché questa provincia ha il maggior numero a tutt'oggi di stanze tutte per sé e poi come donna quella di promuovere ogni azione mirata a superare la violenza di genere. Quindi diciamo con un'attività anche preventiva che è una componente fondamentale per la riaffermazione anche della legalità perché anche questo è un aspetto di affermazione di legalità, quindi di un impegno anche con la società civile che è fondamentale come coinvolgimento e quindi ritengo che sia una tappa importante quella che si è raggiunta oggi a Caltanissetta grazie anche alla sensibilità dell'arma dei carabinieri. Si tratta di un progetto a livello nazionale che noi già abbiamo portato avanti nelle nostre sedi di Gela e di Niscemi. L'intento è quello di garantire un ambiente il più possibile accogliente e favorevole all'empatia, al colloquio, al dialogo tra persone vittime di violenza essenzialmente donne e minori e il carabiniere o comunque l'operatore di polizia che raccoglie queste confidenze. Questo progetto nazionale ha avuto un successo non previsto anche a livello nazionale se si pensa che in poco più di sette mesi sono stati realizzati 53 stanze per l'audizione delle donne che subiscono violenza. Per noi è importante che in Sicilia ma soprattutto nella provincia di Caltanissetta ne siano state realizzate tre e per noi è anche fondamentale il fatto che abbiamo cercato di dare un taglio di confortevolezza, di tranquillità e di serenità ad una persona che subisce la violenza. Lo scopo è sostanzialmente quello di creare un ambiente accogliente che possa consentire alle donne di denunciare le violenze subite. Siamo perfettamente coscienti del fatto che le violenze non vengano appunto denunciate ed è questo che noi vogliamo incentivare. Certo non abbiamo la pretesa di risolvere il problema con la creazione di una stanza però siamo certamente convinte che creare un ambiente accogliente può far sentire le donne più protette e può invogliarle alla denuncia così come può consentire agli operatori di poter agire con maggiore sensibilità a cura che il caso richiede. Si prevedono disagi idrici a Gela, Mazzarino, Butera e Riesi a seguito dell'interruzione dell'acquedotto Blufi a causa della rottura di un tratto di condotta. Dai tempi di ripristino salvo ulteriori imprevisti la distribuzione riprenderà domenica 20 novembre. La pagina della cronaca giudiziaria arresti domiciliari per il nisce mese Michele Straquadaini 37 anni destinatario di diverse condanne per detenzione, porto abusivo di un fucile con matricola brasa e relativo munizionamento esercizio abusivo di caccia in riserva naturale durante il periodo di silenzio venatorio ed evasione dagli arresti domiciliari. Le sentenze di condanna adesso sono divenute definitive. Dovrà scontare un anno e dieci mesi di reclusione. Il provvedimento è stato messo dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ed eseguito dagli agenti di polizia coordinati dal dirigente Andrea Monaco. Torniamo a Gela questa mattina con le nostre tre camere. Abbiamo seguito all'Istituto Scolastico Salvatore Quasimodo la festa dell'albero. Festa dell'albero oggi all'Istituto Scolastico Salvatore Quasimodo di Gela diretto da Maurizio Tedesco. Durante l'iniziativa si svolta la piantumazione di alcuni alberelli a cura della forestale di Caltanissetta. L'albero si compone con le radici, il tronco, i rami, le foglie, il frutto, tutto. Rappresento con questo abito un sacchetto della raccolta differenziata perché noi riciclando le cose così salviamo gli alberi e non cassiamo le frane. E pensare agli alberi quando sono importanti che purificano l'aria e fanno tante altre cose è davvero importante che la gente debba capire l'importanza degli alberi. Gli alberi sono degli elementi imborsanti per la natura e ci aiutano a vivere meglio. Noi siamo un gruppo di colleghi che continuamente andiamo sulle scuole, come questa specifica scuola, andare a fare educazione ambientale, rispetto dell'ambiente, rispetto della legalità attraverso l'ambiente. Quindi siamo sempre con i ragazzi. Nell'ambito della manifestazione di oggi c'è stato anche uno spettacolo promosso dalla scuola con la collaborazione dell'associazione CAV di Gela dal titolo Un seme, un albero, la vita. E' importante che i ragazzi siano educati sin dalla più tenera età al rispetto dell'ambiente e più in generale, se vogliamo, anche di tutto ciò che è comune. Perché oggi il grosso problema della nostra città è che il bene comune non viene visto come una cosa propria, della quale avere estrema cura, ma come una cosa che è di tutti e quindi è di nessuno. E quindi a partire da una riflessione sul rispetto della natura e dell'ambiente, credo che si possa certamente estenderla a una visione più generale sul rispetto della cosa comune. La scuola è invece apprendere, conoscere e crescere le regole della vita. Oggi credo che qui il dirigente scolastico della Quasimodo, il dottor Tedesco, ha messo in pratica questa fondamentale regola. Una scuola che serve a far crescere uomini e non solo esclusivamente dei contenitori di conoscenza. Se vogliamo paragonare questo momento della festa dell'albero al momento in cui quest'uomo e questa donna danno origine a una nuova creatura umana. Per cui la festa di oggi è dell'albero, ma è soprattutto per i bambini. La situazione Corsa per la Vita, presieduta da Silvio Lishandra, punta il dito contro i continui tagli alla sanità. Con l'avvento delle Aspe nel 2009 ed il piano di rientro parato dall'assessore alla salute Massimo Russo, iniziò di Silvio Lishandra la fase dei tagli per 1 miliardo e 100 milioni di euro, mettendo in ginocchio le popolazioni di periferia con accorpamenti, tagli e blocco delle assunzioni. Nell'ottobre del 2012 gli aumenti dei tagli alla sanità sono aumentati per altri 350 milioni di euro all'anno. Nel 2016 il ministro Lorenzin ha introdotto il decreto sulla proprietezza delle visite mediche. Corsa per la Vita sostiene che è stato un errore fatale consegnare la sanità alle regioni Sicilia, in primis dove la lotta agli sprechi è un optional con molti consulenti pagati profumatamente, ma con la prevenzione pagata da quei cittadini che se lo possono permettere. Nessun disinteresse e anzi la volontà di continuare ad affrontare assieme al sindaco la questione relativa al servizio di trasporto di sabili, lo dice l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Bela, rispondendo alle accuse lanciate al termine della conferenza dei capigruppo di ieri mattina. Avevo informato il presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascia, dice a Bela di un impegno già preso allo stesso orario inerente, la delicata questione di una studentessa gelese pluridisabile al quale ero stata precedentemente invitata dal dirigente scolastico assieme ai delegati dell'ASP e assistenti sociali. Ciò nonostante, continua a Bela, ho chiesto al personale dell'assettore di essere presente alla conferenza allo scopo di relazionarmi. Anche il sindaco da parte sua aveva già preso degli appuntamenti fuori città, tanto che già ci siamo resi disponibili ad un successivo incontro con i consiglieri comunali e i sindacati in modo da affrontare serenamente la questione. La disponibilità mostrata, testimonia, continua a Bela, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il vero interesse che questa giunta comunale nutre nei confronti del mondo della disabilità. Tre giorni gelesi per lo scrittore Crocevisto Dentello nell'ambito della rassegna culturale dei venerdì letterari promossa dal comune di Gela. L'autore di Finché dura la colpa, ieri, ha presentato il suo romanzo d'esordio nei locali della biblioteca comunale. Oggi si è ripetuto all'ITIS Morselli e al liceo scientifico Vittorini. Domani alle 11 incontrerà gli studenti del liceo classico Eschilo alla libreria Randazzo. Gela è la città natale dei miei genitori, ha detto Dentello, e pertanto ad un anno esatto dalla nascita di Finché dura la colpa mi sembra di celebrare l'anniversario sul filo di un ritorno alle radici. Venire a Gela, che è la città natale dei miei genitori, delle mie famiglie, dei miei nonni, è un'emozione, ripeto, intensa e particolare. Ho scritto su Facebook un post a riguardo dicendo che è un ritorno alle radici, in fondo, perché i miei genitori, i miei nonni, sono figli della diaspora siciliana degli anni Sessanta, io sono figlio di quei siciliani che sono emigrati al nord, sono nato e cresciuto al nord, ritornare a Gela è come dire unire questi destini, questi destini che si sono apparentemente separati. C'è molto di celese non tanto nel mio protagonista quanto nei genitori, che ovviamente sono ricalcati in qualche modo autobiograficamente sui miei, ci sono due sentimenti contrastanti, da una parte il valore sacro della famiglia, che ovviamente corrisponde molto al nostro orientaggio meridionale, e dall'altra c'è una concezione della lettura, che spesso talvolta può apparire improduttiva, cioè può non apparire un arricchimento spirituale, e questo è un altro retaggio meridionale duro a morire, e che ho voluto raccontare. L'assessore comunale Francesco Salinitro. È interessante come tantissimi altri eventi, questo ha una particolarità che riguarda come nel caso di Collo d'Oro, che abbiamo avuto modo di leggere e di ascoltare, e di un gelese di famiglia, perché lui in realtà è nato in Brianza, un luogo tra l'altro che io conosco molto bene, dove ho svolto gran parte della mia attività professionale. Ci siamo ritrovati anche in alcune conoscenze comuni, che mi fa piacere, ma soprattutto ciò che mi fa piacere è il constatare che comunque gela i suoi figli e coloro che si muovono in ogni parte del mondo e d'Italia, comunque riallacciano i propri modi d'essere, i propri racconti, la propria vita a quelle che sono le radici. In occasione del centenario della presenza dei padri passionisti in Sicilia, l'urna contenente il corpo di San Paolo della Croce, fondatore dei missionari della Passione di Gesù Cristo e delle monache claustrali passioniste, sta visitando la Sicilia. Lo straordinario evento ha coinvolto le città principali dell'isola e i luoghi dove sono presenti i padri passionisti. A Gela, l'urna del mistico della Passione, arriverà mercoledì 23 novembre alle 17.30 in Piazza Umberto I. Seguirà la solenne celebrazione eucaristica in Chiesa Madre presieduta da Don Antonino Rivoli, vicario generale della Diocesi di Piazza Armedina. Dopo la celebrazione si snoderà la processione con l'urna fino alla Chiesa di Sant'Agostino. Alle 21 inizierà la veglia di preghiera animata dai missionari passionisti. Giovedì 24 novembre nella Chiesa di Sant'Agostino, alle 8.30 ci sarà la celebrazione eucaristica e la visita dei fedeli e delle scuole al Santo. L'urna con il corpo proveniente da Roma lascerà Gela alle 16 per raggiungere Butera. Domenica 20 novembre dalle 9 alle 14 nel piazzale antistante l'Istituto Suor Teresa Valsea a Macchitella si terrà l'iniziativa svuota cantine promossa dal comune di Gela in collaborazione con la società Tecra. una corsa dalle cantine di casa al piazzale per conferire senza alcun limite rifiuti appartenenti alle frazioni ingombranti. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tra le 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci di seconda parte del telegiornale, ad un anno dalla sua scomparsa, la pubblica assistenza Procivis di Gera ricorda Giacomo Ferrera. Domani alle 17.30, nella sala congressi della Procivis in via Ossidiana 23, don Raimondo Giammusso celebrerà l'Eucaristia alla presenza dei volontari e di tutti i colori i quali vorranno partecipare. Al termine della messa, alla presenza della moglie Maria Granvillano, seguirà l'intitolazione della sala operativa a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale del servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana Rice Trasmissioni. Concerto di beneficenza, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si terrà domenica 20 novembre, nella chiesa Sant'Agostino di Gela, promosso dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, in collaborazione con la Regione, il Comune, il Comitato Provinciale Unicef, il Lions International e l'Interact. Il programma prevede alle 18 la celebrazione della messa e alle 19.15 il concerto. L'evento sarà accompagnato da una raccolta fondi in favore della campagna Unicef 100%. Vacciniamoli tutti. Chiedono a Granvogia il rispetto dei loro diritti e rivendicano la corrisponzione dei loro stipendi arretrati 15 dipendenti dell'IPAB Gurrera Calafato Moncada che ancora una volta si sono ritrovati in sit-in ed innanzi la loro sede di lavoro inviaturati. 16 le mensilità arretrate che ancora attendono da settembre a dicembre del 2015 e da gennaio sin a novembre del 2016. Gli ultimi stipendi infatti sono stati pagati al 50% mettendo in grave crisi economica i lavoratori e le lavoratrici. Le organizzazioni sindacali CGL Silligui insieme all'RSU di questa amministrazione hanno deciso di fare questo sit-in in attesa di avere notizie concrete da parte della direzione di questo istituto visto che fino adesso non sono state mantenute le promesse e gli accordi sottofirmati in prefettura precedentemente. Il piano di rientro economico non è stato assolutamente presentato gli arretrati invece di diminuire stanno aumentando e continuano ad essere sempre penalizzati i lavoratori che come assistenza non vanno a percepire più del 50% dello stipendio dovuto. Siccome noi riteniamo che gli impegni vanno rispettati ma soprattutto a dare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori che non possono continuare a lavorare in maniera gratuita e non ci sembra nemmeno corretto dove si dice che verranno piano piano pagati gli arretrati e pagati gli stipendi in maniera puntuale ci ritroviamo da tre mensilità con il 50% degli stipendi. C'è stato comunicato dalle lavoratrici che hanno intenzione di erogare pure questo mese il 50%. Abbiamo deciso di fare questo sitin e dare continuità permanente affinché non si regolarizzi in maniera continua la puntualità degli stipendi. E mentre i sindacati chiedono la convocazione di un tavolo tecnico con i componenti del Consiglio dell'IPAB ovvero la Curia e il Comune fondatori i lavoratori nonostante la situazione di grave disagio economico proseguono ad accudire i 37 ospiti della struttura che pagano con puntualità la loro retta mensile. Secondo me questo è diventato un'abitudine che devono darci questi soldi io sinceramente non l'accetto io e neanche i miei colleghi perché almeno loro una mensilità al mese la devono dare ce la devono carendire perché noi dobbiamo pagare le nostre bollette la nostra casa e mantenere anche la nostra famiglia e anche vogliamo avere delle certezze da loro. Noi abbiamo un direttore abbiamo anche un vescovo quindi sanno loro questa è una cosa sua e si devono impegnare loro la chiesa a darci lo stipendio perché oggi sanno benissimo che tante famiglie sono in difficoltà e se non si ha questo non si può andare avanti. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra organizzata dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela col patrocinio della Regione del Comune e del Museo. domani alle 19 è prevista nei locali del Museo Archeologico regionale l'esibizione del chitarrista Davide Sciacca assieme al polistrumentista e sperimentatore Rosario Tomarchio e domani alle 18 presso la libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gela si terrà l'iniziativa pomeriggio in giallo per l'occasione saranno presentati due libri Codice Omega di Nino Branchina e le Regole del Perdono di Francesco Alessandro Veutro dialogherà con gli autori Diana Anastasi e ora parliamo di sport calcio continua intensamente la preparazione del Gela in vista della gara di domenica prossima al Vincenzo Presti contro la Versa Normanna e Biancazzurri lo ricordiamo sono reduci da due vittorie di seguito oggi ne abbiamo parlato con il centrocampista Biancazzurro Corrado Montalbano Montalbano mancano due giorni la sfida con la Versa Normanna c'è un Gela Carico che arriva da due vittorie consecutive in questo caso come recita un vecchio adagio non c'è due senza tre dunque l'auspicio la speranza che domenica si possa conseguire la terza vittoria di seguito sì domenica è una partita molto importante per noi perché in casa dobbiamo continuare questa striscia positiva sperando di portare a casa i tre punti e andare a cava con la mente molto più serena poi un Gela che è cambiato dopo la tremenda battuta d'arresto a Fratta Maggiore proprio in quell'occasione avete trovato la coesione un gruppo vero e proprio che dalla domenica dopo ha cominciato a vincere sì il gruppo come nei primi giorni si è creato c'è una bella situazione in casa nostra però come dicevo anche l'altra volta nell'intervista la partita di Fratta è una partita a sé noi dopo la partita di Fratta fortunatamente abbiamo avuto una grande squadra è venuta a giocare in casa nostra e ci siamo potuti riscattare e da lì ora tutto è un crescendo noi dobbiamo affrontare ogni partita singolarmente pensando a vincere dove andiamo non importa con chi giochiamo non importa l'importante è che noi ci divertiamo ci mettiamo al massimo impegno e facciamo divertire la gente ma questi punti che voi raccogliete domenica dopo domenica servono a raggiungere la salvezza oppure a puntare playoff servono a farci divertire poi quello che avviene ci prendiamo l'importante è affrontare ogni partita con il massimo della tranquillità il massimo dell'impegno cercare di divertirci noi perché il calcio è un bellissimo gioco e chi viene a vederci si deve anche divertire nessuno in squadra ha il posto assicurato tutti abbiamo un ruolo importante nella rosa quindi chi va in campo chi subentra ognuno di noi deve mettere il massimo impegno per portare a casa i tre punti una settimana succede a me una settimana succede a un altro mio compagno l'importante è andare tutti per lo stesso obiettivo domenica roccella si è vinto negli ultimi minuti è ancora più bello anche perché hai realizzato un gol sì vabbè l'importante era vincere poi alla fine all'inizio non importava l'importante abbiamo portato a casa i tre punti che erano tre punti importanti per noi ci siamo sbloccati poi alla fine ma durante la partita siamo stati molto compatti molto sereni tranquilli e poi alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato e domenica arrivano altri tre punti con la versa faremo in modo che arrivino intanto è burrasca in casa della nuova Gela nel campionato di eccellenza il tecnico Natale Serafino ed il team manager Alessandro Barone hanno rassegnato le dimissioni i motivi che hanno indotto i due a lasciare sono riconducibili a quanto accaduto due giorni addietro quando i calciatori al Vincenzo Presti hanno interrotto l'allenamento su invito dei vigili urbani una vera e propria querella tra società e comune l'amministrazione comunale sostiene che il Terranova può allenarsi al Mattei di Machitella e non al Presti il presidente del club Gel Rosso ha dato incarico ad un legale per farsi valere contro l'amministrazione comunale ed il sindaco in particolare la pagina dello spettacolo appuntamento col cinema all'antitoto di Gela e in proiezione il film ti amo presidente sono due gli orari 19.30 ed è scattata sempre all'antitoto la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre ricordiamo che l'abbonamento intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani e al Teatro Eschilo di Gela domani alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Ramondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gershwin ci sono ancora biglietti disponibili lunedì 21 invece alle 21.15 saliranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in Odio Amleto per informazioni il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per aver guardato